Oggi è il giorno del cordoglio e del silenzio per la città di Pozzallo, che si stringe attorno al dolore dei familiari di Valeria Cannata. La giovane ventottenne investita da un pirata della strada, mentre stava attraversando a piedi con una sua amica sulla strada provinciale 46. La Giunta ha proclamato per oggi il lutto cittadino, un gesto che vuole dimostrare la vicinanza di tutta la comunità a Valeria. L'intera città è ancora scossa dalla notizia e tante la rabbia per questa giovane vita spezzata. Su una strada che è da anni al centro di polemiche per la mancata messa in sicurezza. A fronte dei tanti locali che negli anni hanno popolato la zona, infatti, niente è stato fatto per regolare il parcheggio, scoraggiare chi percorre a velocità sostenuta quel tratto, sempre più trafficato. Oggi per Valeria l'ultimo saluto in chiesa madre. Dopo il dolore e il silenzio, quello che chiede la città è una cosa sola. Giustizia per la giovane, un impegno serio di tutti, perché questi episodi che possono e devono essere evitati non si verifichino più. Grazie a tutti.